Ciao ragazzi, sono Poké Celebi e questo è il video per il contest di PokéShiny. Come da regolamento bisognava comprare tre bustine. Io purtroppo le ho trovate solo spaiate, cioè ho trovato il boxy non in edicola ma in cartoleria, perché in edicola avvengono le bustine mensili, purtroppo essendo a fine mese non le ho trovate. Ognuna costava 14.50, ho qua lo scontrino che può provare tutto il giorno 20.07.2016, c'è anche l'ora se volete, costava 13.50, ma vabbè. Io direi di aprirle cominciando da questo alla casa, sono sigillate, non so se si vede, si può vedere da qua. Guardate, aspettate. Ecco, cioè perché non voglio imbrogliare, perché qualcuno già si è lamentato, i codici ve li lascio perché non me ne faccio niente. Oh, qua sta caduta. Uh, cade tutto. Codice. Facciamo il trick. Non credo di trovare niente, però partecipo comunque, perché mi piace il contest, cioè il primo contest a cui partecipo, quindi cominciamo. Chiapponega, mincino, bronzo, snoobbull, barbie, cottoni, fendekin e serberio raro. Ok, mi mancava, bene. Una è rara, quindi. Questa la serviamo. No. Codice. Trick. Allora, abbiamo domo fossile di cabuto, ligame mentale con altaria, pokemon fuck club, gotita, meo, sneevy, solosys. Abbiamo qualcosa ragazzi, fendekin, una turbo, bene, è la mia prima turbo, non impazzisco per le turbo, ma del fox die mi piace. Belle, belle. Una turbo, quindi, e explode raro. Molto bello. Mettiamo qua. Meno una turbo l'abbiamo trovata, tra lato nella bussina di fendekin. Codice. Questi, faccio la montagna pro. Quindi, una turbo l'abbiamo trovata, mi accontento. Cominciamo. Zigard, warmadam, kit e salva fossili, gotita, mincino, wishmur, fendekin, di nuovo, bullaby, jigglypuff e rotom raro. Bene ragazzi, questo è il video per in contest, abbiamo trovato solo una turbo e due rari, ma mi accontento. Molto bella. Ciao. Ciao.